E' tempo anche di bilanci per la Guardia di Finanza in concomitanza con il 248esimo anniversario della sua fondazione. Dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2022 le fiamme gialle nissene hanno eseguito circa 1500 interventi ispettivi e oltre 450 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno a tutto campo, si legge, a tutela di famiglie e imprese, destinata a cooperare istituzionalmente, a rafforzare le attività e il sistema di controllo finalizzati alla prevenzione, al contrasto della corruzione e delle frodi degli investimenti finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e per garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche. Più di 160 attività ispettive eseguite a contrasto dell'evasione e dell'usione fiscale hanno permesso di constatare elementi di reddito per oltre 26 milioni di euro sottratti all'imposizione fiscale nonché imposte vase pari a circa 14 milioni di euro tra IVA e IRPEF ritenuto e non versate all'erario. Dieci contribuenti sottoposti anche ad indagini finanziarie le cui attività di matrice tributaria hanno permesso di constatare maggiori imponibili per circa 8 milioni di euro. Le attività investigative di analisi a contrasto delle indebite e compensazioni e gli altri illeciti relativi ai crediti d'imposta hanno permesso di accertare compensazioni di crediti inesistenti, ovvero non spettanti, per oltre 1,5 milioni di euro. L'ammontare dei valori sequestrati afferenti le indebite e compensazioni di 5,3 milioni di euro. Individuati 21 evasori totali, ossia esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo sconosciuti al fisco, alcuni dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico e 78 lavoratori in nero o irregolari, nonché 25 lavoratori vittime del reato di caporalato, 35 soggetti denunciati per reati tributari di cui due tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati, quale profitto dell'evasione delle frodi fiscali, è di oltre 8,5 milioni di euro. 11 controlli e le indagini eseguite a contrasto del gioco illegale. Scoperte 5 agenzie che operavano illegalmente, verbalizzate per violazioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Questi alcuni dei dati presenti nel lungo bilancio del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissette, in cui si fa riferimento al protocollo siglato dal comandante provinciale, insieme ai comandanti provinciali di Palermo, Grigento e Trapani, di Intesa con l'autorità di sistema portuale del mare e della Sicilia occidentale. E ancora l'attenzione sugli appalti, fondi del PNRR, l'attività svolta nell'ambito della tutela della spesa pubblica, guardando non soltanto i bonus fiscali, ma anche i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia, il contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, ad esempio, o nel campo del contrasto alla produzione spaccio di stupefacenti, e infine le operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.